Ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TRM H24. In apertura una notizia dell'ultima ora. A Taranto questo pomeriggio si è sviluppato un terribile incendio in un attico del centro in cui un'anziana è morta carbonizzata. Vediamo. Un'anziana è morta in un terribile incendio a Taranto che ha distrutto un appartamento al nono e ultimo piano di un palazzo in piazza Giovanni XXIII. La donna aveva 82 anni e, a quanto si apprende, era seduta su una poltrona e non è riuscita a mettersi in salvo rimanendo intrappolata nell'abitazione. È stata la figlia, che abita al piano sottostante, a notare il fumo e le fiamme e a chiamare i vigili del fuoco. All'arrivo dei soccorsi la donna era già morta, il suo corpo era carbonizzato. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio che ha interessato l'intero piano. Si sono vissuti momenti di grande apprensione con inquilini e residenti che sono fuggiti dalle loro case, riversandosi per strada. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con due autoscale, carabinieri, polizia e vigili urbani. Il palazzo interessato dal ruogo e quello accanto sono stati fatti sgombrare per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Tra gli evacuati è anche una famiglia con un bambino di pochi mesi che viveva nel palazzo accanto a quello in cui si è sviluppato il ruogo. Le fiamme sono state domate dopo un paio d'ore. In corso accertamenti per verificare le cause del ruogo e i controlli di natura statica prima di consentire il rientro negli appartamenti. Sul posto anche il PM di turno Mariano Buccoliero. Proseguiamo con la cronaca. Un crociard 37enne originario del Marocco è stato trovato morto questa mattina sotto una pensillina che aveva trasformato nel suo rifugio nei pressi dell'ex city terminal di Lecce. A dare l'allarme è stato un passante. Il corpo non presenta ferite o contusioni. Questa tragedia colpisce la nostra comunità che è attenta e solidale nei confronti degli ultimi, ha commentato l'assessore al welfare del comune di Lecce Silvia Miglietta. Siamo in attesa degli esami da parte del medico legale, prosegue per accertare le cause del decesso, che dai primi rilievi sembra sia da ricondurre ad una emoragia sviluppatasi come conseguenza di una patologia grave, per il quale risultava proprio in cura presso le strutture sanitarie del territorio. Il mio appello, ha detto invece l'arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, è contro l'indifferenza e contro quelle intollerabili forme di discriminazione che purtroppo strisciano sotto traccia in alcune fasce della nostra città e per le quali i poveri sono un fastidio, sono soggetti da scartare e non invece persone da accogliere e da amare. E poi ancora, sempre con la cronaca, hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato i tre ventenni della provincia di Foggia, arrestati il 12 febbraio dello scorso anno, ora ai domiciliari, perché accusati in concorso di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate. I tre vennero arrestati con l'accusa di aver abusato di una 39enne di origini russe, incontrata la sera del 27 gennaio del 2022 all'uscita di un locale. Due degli indagati sono accusati anche di un'altra violenza sessuale compiuta il 14 agosto del 2021 nei confronti di una donna brasiliana di 50 anni. Una delle due vittime si è costituita a parte civile, si torna ora in aula a marzo quando sarà emessa la sentenza. E ancora con la cronaca, siamo a Minervino Murge, sono stati arrestati due uomini accusati di riciclaggio, tagliavano e smontavano le auto rubate. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Tagliate, sventrate, smontate, sono state ritrovate così alcune delle autovetture rubate ed entrate a far parte del giro di affari di due uomini di Minervino Murge accusati di furto e riciclaggio. I due sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri che si sono avvicinati alla zona nelle campagne di Minervino dopo aver percepito rumori sospetti. In quel momento hanno visto i due intenti nello smontaggio di un'autovettura risultata poi rubata nella stessa notte a Trani. L'immediato intervento ha permesso di bloccare entrambi gli uomini e sottoporre a sequestro numerosi arnesi da scasso. Due dispositivi utilizzati per l'inibizione delle onde radio trasmesse dal GPS, due telefoni cellulari e una radiolina verosimilmente utilizzata dai due per le comunicazioni con eventuali complici. Al termine degli accertamenti i due soggetti sono stati arrestati con l'accusa appunto di riciclaggio. Il GIP ha poi convalidato l'arresto disponendo per loro gli arresti domiciliari. Siamo adesso al lavoro con Acciaierie d'Italia. Oggi l'incontro con i metalmeccanici in Confindustria a Roma. L'azienda annuncia l'aumento di produzione del 15% nel 2023 ma per i sindacati non basta. Tagliata fuori dal confronto, l'USB, che trova solidarietà nel Movimento 5 Stelle. Vediamo. È stato il tavolo della ripresa del confronto diretto tra sindacati e azienda. Quello in Confindustria a Roma ha chiesto proprio a tale scopo dei rappresentanti dei metalmeccanici all'amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, per un dialogo al di là degli incontri al Ministero. L'azienda prospetta l'aumento della produzione del 15% per il 2023, insufficiente per Roberto Benaglia, segretario generale Fim CISL. Il mercato chiede di più, afferma. L'altro punto è la destinazione dei 680 milioni. Abbiamo chiesto siano utilizzati per la manutenzione, gli investimenti e la marciabilità degli impianti. Terzo aspetto il rifacimento di AFO5. È molto importante questa conferma che già è stata annunciata all'incontro con il Governo perché vuol dire appunto guardare la prospettiva. AFO5 e Forno Elettrico saranno i due grandi pilastri per l'attanto del futuro. Noi abbiamo semplicemente chiesto che tutto questo si traduca in nuove relazioni industriali. Abbiamo fissato dato positivo degli incontri sito per sito per poter andare a approfondire come vengono gestiti gli investimenti e soprattutto per evitare quella situazione di incertezza che oggi succede. L'auspicio è che le risorse non siano solo destinate alle bollette di gas e luce, aggiunge Rocco Palombella, segretario Wilma. Non vogliamo e non possiamo assolutamente entrare nel merito della gestione dei 750 milioni. Una cosa è che chiediamo che quei 750 milioni vengano investiti per poter rendere gli impianti sicuri, per poter consentire di mettere nelle condizioni gli impianti a freddo, che sono quelli fermi da diversi anni, di metterli sul mercato, perché questo diventa la garanzia per rientro da parte dei lavoratori. Così anche Gianni Venturi per la FIOM. Abbiamo solo iniziato a valutare che impatto può avere la ripatrimonializzazione di 750 milioni di euro e che tipo di utilizzo si può fare delle risorse. Unico sindacato assente, perché non convocato a differenza degli altri, l'USB, parla di atteggiamento schizofrenico e fascista, il coordinatore Francesco Rizzo. Sono 1.800 gli iscritti all'Unione Sindacale di Base, tra dipendenti di Acciaierie d'Italia, lavoratori ex silva in amministrazione straordinaria dell'appalto, sottolinea Rizzo, denunciando l'atteggiamento di chiusura è sicuramente poco democratico e trovando la solidarietà del vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco. Nelle prossime ore, infine, la ripresa delle audizioni in Commissione Industria al Senato. E restiamo sulla pagina dedicata al lavoro, con una schiarita nell'avvertenza che riguarda l'ARIF. Oltre 100 lavoratori dell'Agenzia Enrigua Pugliese hanno protestato questa mattina davanti alla Presidenza della Regione Puglia, Bari, contro l'approvazione in Consiglio regionale di una legge che prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale delle funzioni locali per i 745 dipendenti, anziché il contratto collettivo nazionale idraulico forestale e idraulico agrario. Una scelta che, secondo i sindacati, penalizzerebbe i lavoratori sia dal punto di vista salariale che contributivo. Ma durante la protesta una delegazione è stata ricevuta da tecnici dell'assessorato all'agricoltura e dal direttore di ARIF, Ferraro. Le richieste formulate dal sindacato sono state accolte pienamente. È stato quindi annunciato l'avvio dell'iter legislativo per l'abrogazione della norma che prevedeva un cambio di contratto. E ci spostiamo adesso a Foggia, dove Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste sul Gargano, è il nuovo presidente della provincia di Foggia. Un'elezione frutto dell'alleanza PD 5 Stelle e Civiche di Emiliano, commentano gli amministratori regionali di centro-sinistra. Nobiletti, che attualmente è anche sindaco a punto di Vieste, succede nel ruolo di presidente della provincia a Nicola Gatta. Ha vinto con poco più di 3.000 voti ponderati sull'uscente Gatta. Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, il nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, è stato eletto ieri sera dopo un serrato testa a testa risoltosi a suo favore. Ha vinto la coalizione del centro-sinistra ed è una bella cosa perché segna un'inversione di tendenza rispetto alle politiche. L'espressione del centro-sinistra, Nobiletti, è stato supportato da PD 5 Stelle e Civici di Emiliano, articolo 1. Una straordinaria vittoria strappando l'unica provincia governata dai nostri avversari, commenta proprio il governatore della Puglia, Michele Emiliano, alleanza vincente sottolineata anche dal candidato unitario alla segreteria regionale del PD, Domenico De Santis. E' il frutto di un lavoro di squadra ed è frutto anche di una qualità amministrativa di tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali che stanno governando nei comuni. Tutto l'impegno sarà dedicato alla città di Foggia, alle prossime comunali, in cui il Movimento 5 Stelle dovrà essere assolutamente protagonista. Molti dicono che una partita fondamentale sarà quella del PNRR. Lei farà dal raccordo anche per intervenire nelle difficoltà e nei ritardi di tanti comuni, vi compreso Foggia e Capoluogo? Ma questo bisogna vedere. Io sto entrando qui stamattina per capire anche in che situazione è la struttura amministrativa, quindi se ha le potenzialità per poter fare questa attività di raccordo. Poi è chiaro, noi abbiamo anche i nostri PNRR. E adesso a Biceglie, dove il sindaco Angelo Antonio Angarano ha presentato la sua candidatura per il secondo mandato come primo cittadino. Nel suo discorso di presentazione Angarano ha ripercorso i principali obiettivi raggiunti nel corso del primo quinquennio. Vediamo. Per guardare al futuro si parte dagli obiettivi che si è stati in grado di raggiungere. Per questo Angelo Antonio Angarano, sindaco di Biceglie, in occasione della presentazione della sua ricandidatura come primo cittadino, ha ricordato alcune delle soddisfazioni del suo primo mandato. A partire dalla riconquista della bandiera blu dopo 15 anni, passando per la realizzazione di nuove spiagge lungo la litoranea e per lo sviluppo del commercio ambulante con l'apertura della nuova area mercatale. Solo alcuni dei passi in avanti per la città che fanno il paio con gli interventi in ambito scolastico e urbanistico e il raggiungimento del risultato del 68% per la raccolta differenziata. Un lungo intervento a cui Angarano ha dato voce nel Politeama Italia di Biceglie per riavvolgere il nastro di quanto fatto in collaborazione con gli amministratori, i cittadini, le associazioni, i referenti del terzo settore e fin anche i volontari. Un risultato corale che di fatto è storico perché le opere, i provvedimenti, le attività regolatorie, l'ultima con il Pug e la prossima sarà il Piano delle Coste sono provvedimenti ed opere storiche e abbiamo comunicato la voglia, la volontà e il piacere di continuare su questa strada perché riteniamo che sia la strada giusta e di farlo ancora una volta tutti quanti insieme per il bene della nostra città, per la crescita perché è bello scrivere tutti quanti insieme la storia del proprio amato paese. Prossimo step ora, le primarie di coalizione fissate per il prossimo 12 marzo. E ci spostiamo adesso in Basilicata, novità per quanto riguarda i lavori di ripristino della viabilità nella zona del comune di Pomarico nel Materano che quattro anni fa è stata interessata da una frana. Vediamo. Nella primavera del 2024 la strada franata nel gennaio del 2019 a Pomarico creando disagi e ordinanze di sgombero in una zona centralissima del paese del Materano dovrebbe tornare ad essere percorribile. Proprio in questi ultimi giorni sono partiti i nuovi lavori che dovrebbero rappresentare il rush finale verso il ripristino dello stato originario dei luoghi. La notizia è che sono partiti i lavori di messa in sicurezza dell'area poste rimozione macerie e quindi iniziamo a vedere di nuovi lavori nel cantiere che si muove. Credo nel giro di qualche settimana avremo anche l'esecutivo dell'altro step di lavori da 3 milioni e 9 dove si tratta della risalgamatura del versante partendo dalla base della frana quindi dal cosiddetto fosso che è giù a valle. Dopodiché abbiamo anche altre novità, abbiamo un altro intervento da 5 milioni di euro dove andremo veramente a curare oltre alla parte della stabilità di tutto quel versante anche alla parte finale dell'intervento con una strada accessibile, con un collegamento accessibile con una riqualificazione di quella zona lì. E restiamo in Basilicata da cui arrivano anche buone notizie sul fronte Covid. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Anche sul territorio lucano come in moltissime regioni italiane nel Covid pare stia sensibilmente arretrando nella settimana dalla 20 al 26 gennaio si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti pari a 48,5 casi e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi con una meno 37,5% rispetto alla settimana precedente. Per quanto concerne i posti letto occupati da pazienti Covid siamo sopra la media nazionale in area medica 8,3% mentre siamo sotto la media nazionale in terapia intensiva con lo 0%. I dati citati provengono dal monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia svolto dalla Fondazione Gimbe. Per quanto concerne la copertura vaccinale la situazione è la seguente. Sulla territorio lucano la percentuale di popolazione con oltre 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari alla 10,1%, la media in Italia del 10,9% a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni pari allo 0,5%. La percentuale di popolazione sopra i 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 13,4%, la media in Italia del 12,2% a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può ricevere la terza dose nell'immediato pari all'1,5%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,5%, la media in Italia del 30,7% il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è dell'8,2%, la media in Italia del 13,5% la popolazione tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale appare al 45,4% la media in Italia del 35,3% a cui aggiungere un ulteriore 4,2% media in Italia 3,2% solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per la provincia Matera 53, meno 17,6% rispetto alla settimana precedente Potenza 44, meno 46% rispetto alla settimana precedente E l'idrogeno in Basilicata sarà una nuova frontiera di sviluppo ne abbiamo parlato con il presidente del Cluster Energia Basilicata ETS Luigi Marsico per avere uno sguardo sulle prospettive che la nuova fonte energetica può offrire al territorio La Basilicata si prepara ad affrontare una nuova sfida nel settore delle energie rinnovabili Parliamo dell'idrogeno, un'opportunità ma anche una risorsa per superare la dipendenza dei combustibili fossili Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una concertazione fra tutte le parti interessate dalla politica agli attori del tessuto industriale lucano In questo contesto, per capire se la Basilicata è pronta ad affrontare questa nuova sfida abbiamo intervistato il presidente del Cluster Energia Basilicata Luigi Marsico Presidente, il tema dell'idrogeno è di stretta attualità qui in Basilicata Avete partecipato a un incontro in cui il presidente Bardi vi ha illustrato quelle che sono le caratteristiche del bando Com'è stata accolta questa iniziativa? Sì, è stato presentato questo bando Ovviamente noi come Cluster Energia eravamo presenti è portato anche il nostro contributo, il nostro punto di vista Chiaramente il bando è stato accolto con grande entusiasmo anche perché vi era grossa attesa rispetto a questa misura e sono certo che vi saranno importanti progettualità sia dal punto di vista tecnico innovativo ma anche progettualità che sapranno tener conto delle peculiarità del territorio e del contesto in cui esse saranno calate E alla luce di questo, il Cluster che lei presiede che contributo può dare non solo alla politica ma anche al tessuto imprenditoriale? Sicuramente il valore del Cluster è proprio quello agevolare anche l'interlocuzione tra impresa e istituzione e credo che proprio questa parte della peculiarità della mission del Cluster debba essere valorizzata proprio per la sua trasversalità il Cluster deve sempre più diventare l'interlocutore di eccellenza vocato a dialogare, quindi a fare da ponte tra tessuto imprenditoriale, enti di ricerca e istituzioni E sono stati presentati a Roma i risultati del progetto Rete Siti Unesco di cui è capofila la provincia di Matera al servizio Creare una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano Siti Unesco per promuovere le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e per far sì che ogni sito possa fungere da attrattore per gli altri è l'obiettivo del progetto Rete Siti Unesco i cui risultati sono stati presentati nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma 5 le regioni coinvolte, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia oltre un milione di utenti raggiunti grazie al web 500 operatori iscritti al circuito e 36 itinerari di visita ideati sono alcuni dei numeri che raccontano di un progetto vincente i partner coinvolti sono stati 15, tutti enti locali del Meridione capofila la provincia di Matera a margine della conferenza romana il commento e l'entusiasmo del presidente Marrese l'obiettivo è quello di fare Rete tra i vari siti UNESCO abbiamo coniato il motto un sito tira l'altro proprio per cercare di creare sempre più forza attrattiva sui nostri territori uno degli impegni è quello di provare a migliorare l'informazione anche i servizi per cercare anche non solo di andare verso una destagionalizzazione dei nostri territori sotto l'aspetto turistico ma provare anche a coinvolgere i territori della nostra provincia dei nostri 31 comuni, uno più bello dell'altro quindi utilizzare questo importante progetto per creare sempre più forza e riuscire anche ad attrarre turismo fuori dalla nazione italiana quindi questo è l'ambizioso obiettivo siamo sulla buona strada continuiamo a lavorare insieme a tutti gli altri enti e torniamo adesso a Bari dove il comune protegge la città vecchia limitando ulteriormente l'accesso alle auto e garantendo più spazio ai residenti modificata la ZTL l'assessore Galasso ci spiega le novità, sentiamo le strisce blu stanno lasciando il posto a quelle gialle installata anche la nuova segnaletica verticale e così dal primo febbraio alcune zone della città vecchia di Bari saranno accessibili con l'auto solo ai residenti con parcheggi a loro dedicati e l'effetto della modifica alla ZTL disposta dal comune la razio è quella di ridurre sempre più la circolazione di autovetture all'interno delle strade di Bari Vecchia e di favorire la trasformazione con pedonalizzazioni sempre più spinte di quelle zone che non presentavano la stretta necessità del transito veicolare non solo, abbiamo anche inteso aumentare il servizio di parcheggio a favore dei residenti anche perché una delle dolianze che spesso ci arrivava era quella della limitazione della poca presenza di posti auto all'interno dei parcheggi riservati all'interno di Bari Vecchia Ma quali sono le principali novità? Abbiamo sostanzialmente modificato l'accessibilità ad alcune aree di parcheggio interne a Bari Vecchia Largo San Sabino e Piazza San Pietro sono adesso utilizzabili soltanto dagli autorizzati ad accedere all'interno della ZTL invece il parcheggio in corrispondenza di Santa Chiara continua ad essere anche fruibile a pagamento da parte di tutti per poter accedere a quest'area di parcheggio si potranno percorrere due varchi che resteranno quindi aperti uno è quello di Federico II di Sveve all'angolo di Piazza Massari con il Castello Svevo l'altro è quello in corrispondenza invece di Santa Chiara quindi da questi due accessi si potrà percorrere una viabilità, cosiddetta viabilità di gancio che permette proprio di accedere a quest'area di parcheggio altra novità è rappresentata dall'aumento delle zone pedonali alcune transitabili anche dai motocicli ma tendenzialmente aumentano le zone dove appunto si potrà favorire sostanzialmente soltanto la pedonalizzazione non più il transito veicolare e oggi è una giornata storica per la pallavolo pugliese che insieme alle altre delegazioni azzurre è stata ricevuta da sua santità Papa Francesco in udienza privata in Vaticano una benedizione alla medaglia e alla Coppa del Mondo mostrate dal presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e dal capitano azzurro Simone Giannelli e una maglia consegnata al Santo Padre tanti pugliesi presenti oltre al presidente federale Giuseppe Manfredi anche il presidente regionale Paolo Endiveri e i tecnici atleti e membri degli staff azzurri a partire da Fefede Giorgi, Vincenzo Fanizza e Nino Gagliardi durante il suo discorso Papa Francesco ha tracciato un parallelismo ideale tra i fondamentali della pallavolo e quelli legati ai valori della vita e adesso siamo con la pagina culturale a Taranto Tornafaces Passionis la mostra dedicata alle statue che raccontano la passione di Cristo presentata la quarta edizione a Taranto, città in cui i riti della settimana santa sono parte integrante della cultura Tornafaces Passionis la manifestazione di arte sacra promossa dall'arci confraternita del Carmine che racconta, così come il nome dice, i volti della passione dall'8 all'11 febbraio, a ridosso dell'inizio del periodo di quaresima si svolgerà la quarta edizione dell'esposizione che viene riproposta dopo lo stop causato dalla pandemia e dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti saranno 14 invece che 10 come gli scorsi anni le statue in cartapessa che verranno esposte provenienti ognuna da una località in cui ha sfilato nelle processioni dei misteri del venerdì santo tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento di altre regioni come la Sicilia, la Basilicata e la Calabria Facciamo questo per la città, lo facciamo perché è giusto perché è quasi fisiologico che l'amministrazione comunale appogge e dia una mano a progetti così importanti perché poi, diciamo sempre, non può succedere tutto soltanto nei giorni dei riti della settimana santa ma bisogna in qualche modo cercare di riempire tutto l'anno perché i riti della settimana santa non sono soltanto quello che noi vediamo in quei pochi giorni però c'è un grande lavoro dietro c'è un percorso che arriva a quei giorni a quei riti e quindi fa parte di questo percorso ormai in modo istituzionale questa mostra Tante città che partecipano a questa edizione di questa esposizione che mette al centro dell'interesse l'arte, la cultura e soprattutto la fede L'inaugurazione della mostra è prevista nella Chiesa del Carmine alla presenza di Monsignor Filippo Santoro il prossimo 8 febbraio alle 18.30 sarà possibile visitarla gratuitamente tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 22 Sei concerti per indagare e scoprire la complessità e accostare arte e ricerca è stata presentata oggi la nuova edizione dei concerti del Politecnico di Bari Vediamo Musica, ambiente e spazi costruiti su queste direttrici si svilupperà la quarta edizione dei concerti del Politecnico quest'anno intitolata Armonia Mundi come il più importante dei trattati di Keplero dal 23 febbraio al 22 giugno sei appuntamenti per affiancare la ricerca all'arte e all'interno degli spazi del Museo della Fotografia un modo per fare divulgazione scientifica sperimentando differenti registri molte novità a partire dalle grafiche che in pentagramma riportano le note Si, si fa un esplicito motto alla ripartenza Al Politecnico non si fa soltanto formazione di eccellenza nell'ingegneria dell'architettura si cerca di dare una prospettiva una capacità di interpretare il futuro che cambia e questo lo si fa anche con momenti di ascolto con dei concerti con dei seminari di approfondimento su tematiche legate al suono ma che con il pretesto del suono e della musica in qualche modo ci costringono a confrontarci con le tematiche che sono di maggiore rilevanza al giorno d'oggi I concerti sono organizzati dal Politecnico di Bari con l'associazione Arco Pu a inaugurare la rassegna sarà Francesco Giannico che con la sua opera rende musica i suoni prodotti dalla città un programma ricco che fa dell'avanguardia e il suo tratto caratteristico sarà possibile assistere gratuitamente a tutti e sei i concerti con l'obbligo di prenotare una settimana prima Avremo in stagione un trio che proporrà musica articolata dal 300 sino ai giorni nostri dicevo già prima Giorgia per esempio pensata in chiave barocca e poi continueremo con in particolare il Polibacor su questa formazione che presenterà un progetto del titolo The Sound of Nature e chiuderemo con Massimo Cotto che è voce portante di Virgin Radio proveremo a fare un percorso nella storia della musica pop con ovviamente un'attenzione particolareggiata al nostro tema che è quello dell'armonia mundi lo spazio e il territorio E questa era la nostra ultima notizia l'appuntamento con l'informazione torna alla prossima edizione del nostro telegiornale Grazie